Lorenzo Colluzzi, un anziano di 86 anni affetto da Alzheimer, è stato ritrovato morto dopo essere scomparso dalla casa di riposo di Naro, Agrigento, in cui risiedeva. La notizia della sua morte è stata confermata dalla prefettura di Agrigento, che aveva avviato le ricerche per persone scomparse. Colluzzi si era allontanato dalla struttura per anziani all'alba di domenica scorsa, 8 ottobre. Le ricerche sono state condotte con grande impegno dalle forze dell'ordine, dalla protezione civile e con l'uso di mezzi aerei. Il suo corpo è stato scoperto in una scarpata in via Gaetano Donizzetti, nel quartiere Baglio di Naro. L'incidente è oggetto di un'indagine da parte dei carabinieri. Grazie a tutti.